Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93 Allora, oggi vorrei fare una puntata più sull'estivo con gli occhiali da sole, con le cuffioni Con la notte, col cielo stellato ovviamente E niente ragazzi, partiamo subito con la puntata di oggi di Call of Duty Black Ops 2 Spero che vi possa piacere e spero che vi possa, come sempre, conquistare Partiamo subito Eccoci qui, siamo su Call of Duty Black Ops 2 ovviamente Partiamo con la serattina, ovviamente cenetta romantica con un bel tutti contro tutti Con un pizzico di tutti contro tutti Allora, clicchiamo tutti contro tutti, anzi TCT Andiamo subito a cercherci una partita Ah, ok Siamo pronti No, che brutto ragazzi, così va meglio Partiamo subito Eccoci in standoff Partiamo subito, mettiamoci le MSMT Andiamo Allora, partiamo subito E' abbastanza scuretto Però vedo le classiche squamette del mio MSMC Dragato No, dopo 30 anni, tranquilla Dai Cazzo No, che strano, guardate un po' Che strano Oggi Dai Oh Oh yeah Ma No, mi spieghi come cazzo hai fatto Ah Bello, 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 bello Bello No, anche questa cazzo di immigrazione host Ma vaffanculo Cioè non bastano gli occhiali Anche questa cazzo di immigrazione host Ah, vedo uno alla mia sinistra Lì alla mia sinistra Pronti a usciderlo? 3, 2, 1 Ma muori Oh 30 anni Cazzo Girati Ah, ok No, volevo capire Dai, dai Ma mi stai prendendo per il culo C'è uno camperone, ragazzi Uno che sta campionando con un maiale Che non è ancora Non ha Ah, ok L'hanno appena ucciso Talasti Così impara Guardate, ragazzi Talasti Ma vuol dire In sardo Così impari Bravo Camp Ma muori Ma muori, stronzo Corri Ah, ma tranquillo Sono off spada Ah, caic Porco maiale Porco santissimo maiale Bello Mi spano davanti Bello Ci vedo niente Porco cazzo Minca Proprio il nabo dei nabi Bastardo Ah, che cazzo Bravo Bravo Col C4 Sei il migliore Sei il più scherzo di tutti Cazzo Tua madre ti ha creato Per farti morire Il dolore è atroce Cazzo Il dolore è atroce Pezzo di merda Minca Oh Cazzo Ma dove sei? Sei un cazzo di camper Ah, ok Ma muoio Ah, ok Ma che strano Guardate un po' Ma ne ero certo Che morivo Ah Ah, ok Dai Ma tu ti attaccate Il mio buco di culo Cazzo Oh 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 Ma che cazzo Si giochi con il C4 Sei proprio un nabo di merda Bello Andiamo Dimmi dove a cazzo ne sei uscito tu Dimmi dove a cazzo ne sei uscito Per piacere C'è C'è mica Ma stai scherzando Ma tu sei un connessionato di merda C'è ma tu sei un connessionato Non puoi No Tu sei un connessionato e muori figlio di troia Vaffanculo Oh 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 Cazzo Non fa giocare in sta partita Ah Ah ok No Volevo capire Bello Bello Ah ok Noi Ma mi sono nascosto Egua Dai Dai ma sei un fottuto camperone Rimani fisso lì Nubo di merda figlio di troia Ancora Ancora Minca Oh yeah Dai ma dietro sempre mi ammazzano Che cazzo Ma vaffanculo Ma vaffanculo Complimenti al tipo comunque sia perché è veramente stato bravi Cioè è stato bravissimo Mi ha fatto piacere Bellissimi camperoni Ottimo Connessionati ovviamente Gente che mi spara 30 anni dopo e stranamente mi colpisce due volte e sono morto Vabbè Come l'hanno detto Allora togliamoci gli occhiali Poi la seconda Andiamo a normali Oh Un po' di luce Ok l'ultima è la seconda partita Andiamo ancora su standoff Cazzo che caldo ragazzi Veramente Non mi aspetta questo caldo Allora Allora Eh bello siamo in quattro Ma vabbè Se non c'è nessun altro Perfetto Beh In quattro è ancora più bella la partita Comunque sia ragazzi Da Cura93 è tutto Visto che non siamo riusciti a trovare una cazzo di partita Io vi taglio direttamente il video Vi lascio la prima partita Anche se sono arrivato secondo Ho giocato con i miei occhiali Purtroppo non ci vedevo benissimo Non riuscivo a vedere Cioè I punti distanti E quello mi ha creato un po' di difficoltà Nell'ammazzare gli avversari Spero comunque sia che il video vi sia piaciuto Un consiglio Non provate a farlo Perché veramente ragazzi Vi crea problemi Se avete degli occhiali che sono così scuri Da Cura non vedete tutto Iscrivetevi Mi piace Commentate Se ovviamente avete apprezzato il video Buona